Non posso ignorare il codice penale, è già in isolamento, qualunque avvocato lo farebbe uscire in una settimana. Vogliamo limitare le sue possibilità, non deve avere contatti esterni, per esempio bisognerebbe negargli l'ora d'aria per qualche giorno almeno. E con quale scusa? Quella che lei preferisce, qualunque principio legale o cavillo che lo faccia rimanere in cella, vostro onore. Dunque non mi faccia capire, lei vuole che violi i diritti civili di quest'uomo in nome di un'oscura giusta causa, è questo il succo signore? Ok, ci sto, ma non ne approfittate per molto, d'accordo? Aspetti, che cosa fa? Risponde dopo tutti i rimproveri che ho subito. Ma è uno dei vantaggi di essere giudice, signor Rice, posso fare praticamente quello che voglio. Pronto? Pronto? O, perché? Grazie